bene allora fotopea o fotopea è sostanzialmente un clone di photoshop che si può usare su diciamo su internet quindi senza nessun computer particolare ora io la versione che ho adesso praticamente si può fare su account si può fare il login e mi sono logato con il mio account di google e vedete che ho pagato adesso il contratto diciamo 12 mesi che costa 5 dollari circa al mese quindi una quantità tutto sommato irrisoria rispetto soprattutto ai concorrenti a photoshop ora ovviamente si può usare anche gratis però le caratteristiche di intelligenza artificiale da qualche mese sono disponibili meglio diciamo con la versione pagamento perché con la versione free siete obbligati a assorbirvi una serie di sketch pubblicitari che comunque un tot di pubblicità che non è molto bello insomma e quindi interrompe anche la modalità di fruizione del prodotto allora foto p o fotopea poi se riesco cercherò di uniformarmi su fotopea all'italiana è abbastanza semplice allora consente di definire di importare praticamente vari formati noi inizieremo con dei formati molto elementari facciamo new facendo new apriamo un progetto abbiamo dei progetti già fatti ma se abbiamo un'immagine di partenza possiamo anche prendere un'immagine e lavorarci sopra io ad esempio adesso faccio posso anche da questo da questa maschera andare praticamente sul se me lo fa fare no non ci riuscirò comunque mi sarebbe piaciuto andare sui download ok e ottenere praticamente un'immagine diciamo di lavoro che che potrebbe essere ad esempio tanto per fare un esempio questa qui si trascino l'immagine un'immagine che questa ma è giusto per l'immagine in realtà è molto semplice questa operazione potete fare come volete ora descriviamo come lavorare su fotopea allora fotopea vedete che c'è un una plancia diciamo dove un po come blender come photoshop appunto in pratica è molto simile a photoshop e in questa plancia si possono fare tante cose adesso metto una f11 così vediamo la plancia di comandi di fotopea al massimo della sua possibilità ok vedete che c'è una quantità di una paletta qua che è molto ampia che ha molte possibilità quindi c'è la possibilità inizialmente di muovere e poi c'è la possibilità di selezionare che è una delle possibilità che noi sicuramente ecco qui dovete solo imparare che per poter vedere le opzioni dovete tenere premuto il tasto quindi facciamo rettangolo select e poi selezioniamo un rettangolo qualunque ok questo è il rettangolo e vedete questo è diventa una selezione se volete fare il contrario quindi selezionare tutto il resto dovete fare controlli con controlli e vedete che tra l'altro qui con controlli in realtà non ha selezionato ma ha fatto l'inverso dei colori invece per fare select inverse dovete fare shift controlli questo che seleziona questo qui si vede non benissimo però in realtà ha selezionato tutto ciò che è attorno al quadrato rettangolo che ho fatto ok ora ci sono tantissime possibilità e questo corso ne fa vedere solo alcune e molto brevi a me quello interessa e soprattutto la possibilità legata alle AI quindi noi abbiamo praticamente la possibilità di modificare dei pezzi d'immagine con soprattutto il questo cerotto io lo chiamo cerotto tra l'altro la lingua la potete modificare se volete con more language italiano e vedete che diventa tutto in italiano e noi andiamo su questa opzione che lo chiamo pennello correttivo ok il pennello correttivo che è j si può accedere praticamente cliccando j in qualunque momento vedete facendo j mentre sono sulla sul disegno vado su questa opzione in realtà ogni ognuna di queste opzioni c'è delle sottopzioni quindi quando premo e tengo premuto j cioè il cerotto mi vengono diverse opzioni ora per questo video che l'ho fatto per farvi vedere brevemente cosa si può fare con l'intelligenza artificiale vedremo il magic replace il magic replace che è rappresentato praticamente vedete questo laso con un ricircolo quindi ricircolo perché perché praticamente noi possiamo selezionare un pezzo dell'immagine per esempio questo astronauta e qui la selezioniamo poi torniamo con j praticamente sul sull'opzione di cerotto intelligenza artificiale e gli diciamo che anziché una sonauta qui vogliamo un cane che poi in inglese sarebbe dog dog barking che è bairo adesso io non l'ho mai fatto ma mi aspetterei che qui al posto di questo pezzettino dell'immagine compaia un cane quindi faccio sostituisci e lui vedete che la processing se siete nella versione gratuita vi romperà un po le balle però la cosa importante è che lui ha fatto il cane e lo sfondo ha cercato di renderlo omogeneo con il contenuto precedente quindi ha fatto un lavoro molto molto interessante se al posto di cane qui mettiamo esempio dog dog barking in comics style quindi lo facciamo in uno stile comico cioè di comics quindi di fumetto quindi questo cane che alla fine non l'ha fatto proprio nel stile comics però comunque ha attivato praticamente il tutto in maniera tale che quello che gli dico è effettivamente aderente all'immagine originale fuori quindi se io qui voglio ad esempio una donna e faccio sostituisci otteniamo anche qui un processing e otteniamo qui una donna adesso cosa uscirà esattamente è sempre molto difficile da capire però vedete che questa tecnica che tra l'altro nelle tecniche AI si chiama in painting la potete fare praticamente gratis o quasi io suggerisco per evitare i problemi che avevo detto prima di pagare magari l'abbondamento a foto p e quindi potete tranquillamente lavorarci sopra quindi qua se volete fare andiamo sulla selezione e qui al posto di questa donna vogliamo invece un e quindi facciamo J di nuovo J e mettiamo un uomo quindi vogliamo cambiare questa cosa qua anzi che con una donna vogliamo mettere un uomo mettiamo sostituisci facciamo l'uomo e quindi alla fine ok man ha fatto quello che ha potuto in questo caso è una cosa strana non è un uomo possiamo mettere un unattractive man proviamo così lui cerca di fare qualche cosa che sia coerente col prompt ecco questo l'ha fatto quindi vedete che fa di tutto ecco lo sforzo che fa lui è quello di rendere il tutto omogeneo in modo tale che come se non quindi se noi questo pezzo qua ad esempio lo diciamo sempre con il J e quindi diciamo di disegnare praticamente un poster un poster photo pair quindi lui praticamente cerca di rifarlo quindi con sostituisci e quindi cerca praticamente di che tutto l'insieme quindi lui il post cioè questo questa modifica cerca di lavorare in maniera tale da rarmi di rappresentare il prompt che abbiamo dato e di essere d'accordo con tutto il resto quindi foto pair ad esempio qui l'ha riscritto vedete e se facciamo qui ci sono negative prompt quindi possiamo anche dire di use default e mettere in realtà un negative prompt nostro quindi per esempio il text lo togliamo e qui rifacciamo il sostituisci quindi a questo punto gli abbiamo detto di rifare la locandina mettendo lasciando quello che c'è però cercando di evitare di mettere del testo quindi vediamo in realtà l'ha messo lo stesso però diciamo ha cercato di togliere qualcosa quindi qualcosa l'ha fatto quindi se qua vogliamo ulteriormente esempio qui vogliamo fare al posto di questo pianeta mettere Saturno quindi l'idea di quello di mettere Saturno quindi torniamo sul j questo e gli mettiamo che in quel posto lì vogliamo rappresentare Saturno a questo punto col sostituisci abbiamo che lui in questo riquadro sul tatto perché il resto lo lascia inalterato mette, ecco, Saturn proviamo a mettere with its rings mettiamolo più preciso, ok? quindi perché lui ha deciso che Saturno stava bene in quel modo là però noi se lo specifichiamo un pochino meglio potremmo in teoria migliorarlo come vedete a volte è difficile gestirlo con esattezza perché comunque questa parte qua lui non è riuscito a trovare un modo migliore di farlo quindi o si allarga la selezione in modo tale da dargli un po' più di libertà di composizione quindi ad esempio si mette questo si mette questo e si fa Saturno quindi sostituiamo quindi adesso mi aspetterei... ecco ha fatto una cosa che ricorda un po' Saturno però vedete che posso lavorare sui singoli particolari e entro certi limiti guidare molto quello che voglio fare quindi se noi vogliamo rifare tutto andiamo praticamente... non possiamo farlo su tutta tutta l'immagine perché è troppo grosso ma un pezzo di immagine, sì, possiamo praticamente riprendere e proviamo a rifarlo questo pezzo di immagine ultimissima prova e poi finisco il video mettiamo che qui invece di... di nuovo mettiamo bo... astronaut boy quindi mettiamo... vediamo cosa ci ottiene ecco e vedete che ha ottenuto un effetto simile quindi ha fatto dei lavori di questo tipo questo tipo di ritocchi senza intelligenza artificiale sono fondamentalmente impossibili o difficilissimi da eseguire e quindi questa è la prima prova che vi faccio vedere